Ecco, le vacanze sono finite anche per Presidente Piacenti, sono già diverse le partite che l'allenamenti ha seguito della Fiorentina, quindi qual è l'impressione che le fa questa nuova Fiorentina? Le prime impressioni sono positive, ho visto due amichevoli, quella con la stella azzurra Rocca Porena che è stata anche la prima occasione per conoscere i ragazzi e per scambiarci anche due parole, due impressioni e quella di questa sera. Sensazioni positive, ho la conferma che si sta lavorando bene, ma di questo io non avevo dubbi, con professionalità, con uno staff preparato sotto la guida di Nicolai, certamente sono partiti amichevoli, quindi vanno prese per quello che sono, insomma, poi bisogna preparare una squadra per un campionato lungo, difficile e soprattutto una squadra, io insisto sempre su un punto che sia in grado di gestire poi momenti di difficoltà che sono inevitabili in una stagione. Ecco, ci eravamo lasciati a maggio con delle difficoltà anche per guardare all'estate, Firenze ha dato delle risposte concrete, come è stata l'estate di Piacenti? È stata un'estate di lavoro e di impegno. Io, come ho detto anche in un'altra occasione, ho visto che c'è stata una reazione, diciamo la reazione è quella auspicata e anche però possibile in questi casi per essere poi estremamente schietti. Io ho detto che per il progetto a cui stavamo lavorando, cioè quello di creare una realtà importante, una squadra di basket importante per la città di Firenze, adesso sarebbe stato spiegabile un apporto maggiore della città di Firenze, insomma, in tutte le sue articolazioni. Devo dire che la risposta a quella possibile nei tempi che ci sono stati, cioè l'estate, l'ho registrata, adesso tutto questo dovrà concretizzarsi perché poi si concretizza certamente attraverso un'attenzione anche delle istituzioni, ma si deve concretizzare poi anche con sponsorizzazioni e con contratti molto concreti. Dico questo perché noi abbiamo allestito una squadra e fatto un budget che come obiettivo ha quello di entrare nei play-off. Questo è l'obiettivo vero che la società ha dato allo staff, entrare nei play-off e per far questo, tra l'altro, siccome abbiamo anche alcuni elementi giovani, accanto ad altri di esperienza, ci siamo dati un progetto pluriannale. Quindi con contratti pluriannali anche, diciamo, che ho fatto ai dirigenti. È chiaro che in base alla capacità che avranno i giovani di crescere e di essere competitivi sul piano sportivo e in base anche alle risposte che ci verranno concretamente dalla città di Firenze, potremo, come si dice, in maniera elastica modificare gli obiettivi strada facendo. Grazie. 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 Grazie.